Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e mi auguro ovviamente che siate tutti ben sereni perché devo dirvi una cosa che mi fa pensare, mi porta a fare dei pensieri, insomma cose varie. Voi sapete che vengo qua e ne parliamo spesso insieme di tutti i vari argomenti che circondano la squadra e quindi ho deciso di parlarvi anche di questo argomento nella maniera più semplice possibile. C'è una persona all'interno della nostra squadra, un dirigente, che ha lasciato la Juve e devo dire guarda, ha lasciato la Juve e io sono molto preoccupato. E tu mi dirai Matt, ma perché un dirigente ha lasciato la Juve e tu ti preoccupi? Perché adesso vi spiego, fra poco. Il signor Tognozzi, se non erro, che era il nostro capo scout, se non erro, comunque un uomo responsabile dello scouting all'interno della squadra, ha lasciato la Juventus, a quanto io ne so in questo momento, perché è stato contattato da un'altra squadra. E quindi ha deciso di unirsi ad un'altra squadra. Ma adesso vi spiego un po' la situazione qual è, vi racconto un po' il problema qual è, e quindi ne parliamo insieme. Va bene? Piano piano ci sediamo, facciamo una bella chiacchierata, è perché ci sono tante, tante, tante cose da dire che devono essere assolutamente affrontate. Cosa dovete fare? Tre cose molto semplici, l'iscrizione. Solito like e solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando perché è veramente molto importante. Io vi ricordo sempre una cosa, la campanellina delle notifiche. Ragazzi, se volete ricevere le notifiche è questo. il modo, quindi devi andare a cliccare lì. E se ti va puoi anche seguirmi all'interno dei vari social, e questo è importante. Allora, Tognozzi lascia la Juve dopo qualche anno. Perché? In Liga Spagnola, adesso non so se in Liga o in Liga B, quindi nella Serie B Spagnola, il Granada, che è un club spagnolo che conoscerete sicuramente, lo ha contattato e gli ha proposto di diventare il dirigente principale della squadra. Ora, è normale che giovane dirigente, Tognozzi, perché è giovane, piccolissimo, è giovane, ha la capacità, da questo punto di vista, di scovare una marea di talenti impressionanti. Giustamente viene chiamato da una squadra che gli dice non vieni qua a lavorare in secondo piano, ma va a fare proprio il nome principale di quella dirigenza, quindi tu rappresenti il principale nome di quella dirigenza, è normale che Tognozzi vada e si dispensi da quel punto di vista, perché Tognozzi stesso vuole diventare direttore dell'area sport, cosa che qui non è possibile fa, perché sapete bene che abbiamo preso Giuntoli, eccetera, eccetera. Ma perché, vi dicevo, io sono preoccupato a proposito di questa situazione? Perché Tognozzi è, insieme agli altri nomi che io ho sempre fatto, che ho sempre comunque portato avanti, uno degli artefici dei grandi talenti che noi vediamo, perché ad esempio Tognozzi ha scovato giocatori come Sule, come Hildiz, come giocatori, voglio dire, come quelli che voi oggi conoscete e amate dall'Under 23, che vedete in prima squadra, quindi la maggior parte dei talenti che tu hai visto negli ultimi anni, che la Juve ha preso e ha lanciato, passando dall'Under 23 alla prima squadra, li ha presi tutti Tognozzi. Quindi è normale che io, quando un dirigente così importante e così giovane, lascia la Juve, da una parte ti dico sono fiero di lui perché va a fare un lavoro diverso in una squadra che gli dà spazio, dall'altra parte però sono anche arrabbiato perché secondo me la Juve avrebbe dovuto fermarlo. Cioè noi avremmo dovuto provare a fare qualcosa, ad avere una strategia diversa per trattenere sto ragazzo qui, promettendogli una promozione, dandogli più poteri, aumentandogli lo stipendio, cioè facendo una serie di cose che da questo punto di vista avrebbero potuto far portare a Tognozzi un atteggiamento diverso. Perché, ripeto, io non perché dico che la Juve si è impreparata, perché sicuramente Tognozzi va via, ma arriva un altro dirigente ora, non è che rimaniamo scoperti. Però al tempo stesso insomma mi lascia un po' perplesso il fatto di non sostituirlo a dovere, cioè nel senso io ho paura che non lo sostituiscano a dovere. Ecco, il che mi creerebbe problemi, perché se tu hai deciso di intraprendere questa strada all'interno della quale hai creato questo progetto con i giovani, con l'Under 23, cercando di prendere questi giovani talenti, portandoli dall'Under 23 alla prima squadra, se tu crei tutto questo e vai a a scarnire, a togliere, diciamo se vai a proprio ad a eliminare, se vogliamo anche proprio a togliere da lì, quindi è il ragazzo che più di tutti, che più di tutti, aveva, era riuscito a portare tanti talenti qui, è normale che dal mio punto di vista ci siano tante cose da pensare, no? Perché dico, ma possibile che non ci fosse un modo per trattenere questo giovane talento, appunto perché lui è un giovane talento, all'interno della diligenza, secondo me è un errore, io ve lo dico sinceramente parlando. Poi è logico che alla Juve rimangono persone competenti, perché non è che lui lavorasse da solo, Cherubini ha sempre lavorato bene con l'Under 23, Manna ha sempre lavorato bene con l'Under 23, Giuntoli dà un'occhiata all'Under 23, sicuramente sono persone competenti. Però mi piaceva il fatto che Tognozzi fosse nostro, cioè che fosse un dirigente creato qua, che fosse nato, che fosse cresciuto qua, quindi mi dà fastidio darlo al Granada. Poi è ovvio che se lui è venuto da te e ti ha detto guarda, io voglio andare via perché mi sento in imbarazzo, perché voglio andare a fare un'altra esperienza, perché è normale che tu non lo puoi, non è che puoi dire no, non vai. Cioè, gli devi dare la libertà di scegliere quello che deve fare. Però è normale che dal mio punto di vista la sua sia un'assenza importante, un'assenza che comunque non può essere giustificata con un così, una sorta di disinteresse. Cioè, bisogna sostituirlo a dovere, perché se tu hai voluto improntare molto di quello che tu fai su Lander 23 e vai a togliere lui, è normale che poi c'è un calo. Quindi non vorrei che poi, ora che abbiamo preso un sacco di giovani talenti, noi non li prendiamo affatto, perché non c'è Tognozzi che li segnala, perché lui è veramente bravo, lui è davvero bravissimo con i talenti e quindi avrei voluto che restasse a, che restasse qua, restasse, ehm, che restasse qui alla Juve, ecco. Sono stato un po' colpito da questa news, perché io sinceramente parlando ti dico la verità, io ti parlo poi dal mio punto di vista, poi ti parlo dal mio punto di vista, va bene? io forse so di parte, perché forse, però se io facessi il dirigente alla Juve, anche se non fossi proprio il principale dirigente della Juve, comunque tu alla Juve sei a posto, nel senso sei importante, con il tempo, sei giovane, potevi anche raggiungere un ruolo differente, cioè potevi arrivare ad avere una responsabilità comunque molto alta, che sicuramente hai lì in Spagna, ma c'è una bella differenza, nel senso vai in un club molto inferiore, cioè io se fossi stato in lui, io avrei aspettato un paio di stagioni qui, avrei continuato a lavorare qua un paio di stagioni e dopo un altro paio di stagioni avrei detto, avrei posto e avrei detto ma perché non proviamo a ammissare, avrei provato a fare un salto in più, ma qui però dove tu avevi raggiunto un equilibrio, fossi stato in te io non sarei andato lì, però evidentemente tu hai altri, hai un altro modo di pensare, un altro modo, io ti sto dando un'opinione mia personale su questa situazione che sinceramente credo che sia abbastanza motivato, no? Perché sei alla Juve, è normale che quando sei alla Juve tu non pensi ad altro, è chiaro, no? È raro, è rarissimo chi sta alla Juve di solito lo sceglie come meta d'arrivo, poi c'è chi non lo capisce, però c'è chi non lo intende, c'è chi lo intende, c'è chi, diciamo, non comp... dipende da tante cose, ti ripeto, secondo me c'è un problema di comunicazione, ok? Non lo so, non credo che lui sia stato intelligente da questo punto di vista, e non credo neanche che sia giusto snobbare, bisogna sostituirlo in maniera adeguata, guardate, i giovani sono importanti all'interno di un club, la Juve non ha mai avuto nella sua storia, tranne per rarissimi periodi, così tanti giovani di valore, ne abbiamo veramente tanti, quindi bisognava cercare di fare di più, non molliamo questa filosofia, nel senso, non andiamo ora a trascurare questi giovani, a metterli nuovo, cerchiamo di, capisci, continuare questo, perché se poi tu non continui, ripeto, su se non continui, rischi di rovinare quanto è fatto. Non dobbiamo pensare che l'Amber 23 sia finita qua, perché hai visto 5-6 talenti buoni e dici, ah, tanto che aveva, basta, perché se tu lavori, poi lavora a me, puoi avere tanti talenti, bisogna considerare che ci sono tanti talenti in giro per l'Europa che non possono essere snobbati, quindi mi raccomando all'opinione che noi abbiamo di questi giocatori, cioè, credo che sia abbastanza chiaro, credo che sia abbastanza evidente, no? Credo che sia abbastanza logico il fatto di dover riuscire a lavorare sulla base di questo. Quindi, fatemi sapere un pochino voi nei commenti di che cosa stiamo parlando, insomma, che cosa pensate, voglio conoscere un pochino la vostra opinione personale su questa faccenda, che è una faccenda che sinceramente parlando mi lascia particolarmente perplesso e bisogna cercare di capirla. Quindi fatemi sapere un pochino cosa ne pensate, ragazzi. grazie. 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 grazie.